Prosegue la discesa del numero di positivi e di ricoveri nella nostra regione che dal 7 giugno passerà in zona bianca. Domani all'Aquila si terrà la cabina di regia per fare il punto sullo stato della pandemia, mentre il presidente Marco Marsiglio parla di Abruzzo già oggi con numeri che sarebbero da zona bianca. Il governatore della regione chiede anche maggiore coraggio al governo per le riaperture. I dati quotidiani continuano a mostrare una tendenza che è al di sotto dei 50 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, che quindi classifica l'intera regione ormai come zona bianca. Le regole che ha messo il governo non consentono di adottare la zona bianca subito, ma impongono tre settimane di permanenza. Io spero che magari da qui a tre settimane il governo prenda un po' di più di coraggio nelle riaperture e magari ci consenta di anticiparlo anche. Adesso il compito nostro intanto è restare con questa incidenza e continuare il buon lavoro fatto per fermare il virus e per continuare nella campagna di vaccinazione che sicuramente concorre a diminuire i casi e soprattutto a loro pericolosità. Per Celano attendo i dati di domani e spero che possano essere sufficientemente incoraggianti da non dover prorogare le misure, credo complessivamente anche la provincia dell'Aquila è sotto questa incidenza, quindi posso ipotizzare e sperare che domani potremo registrare anche per Celano il superamento della situazione, però attendo la relazione dell'Aselo prima di pronunciarmi.